1 e 3 minuti, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica. Nell'ultima domenica di campagna elettorale la Lega è tornata a Pontida dopo lo stop per il Covid. Salvini promette che il centrodestra governerà per cinque anni, sarà più credibile all'estero. Gli italiani propone un contratto in sei punti. A pochi chilometri di distanza, a Monza, il segretario del PD Letta ha chiamato a raccolta i suoi sindaci e dice di puntare al voto degli indecisi. E tra Renzi e Conte, durissimo scontro a distanza sul reddito di cittadinanza. Sentiamo tutto. Una sfida in parallelo in terra Lombarda. A Pontida, vicino Bergamo, Matteo Salvini celebra rituale raduno della Lega dopo i due anni di stop per il Covid. Il segretario del PD Enrico Letta chiama a raccolta sindaci e amministratori a Monza, già roccaforte del centrodestra e spugnata a sorpresa le ultime comunali. Con la Meloni e Verlusconi siamo d'accordo quasi su tutto. Governeremo insieme per cinque anni, promette il segretario del Carroccio, che insiste sulla flat tax, sui decreti sicurezza, sulla riforma delle pensioni e propone l'abolizione del canonerai. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, dal palco rilancia un cavallo di battaglia leghista. Chiunque vada a governare non avrà scelta. L'autonomia regionale vale anche la messa in discussione di un governo. Dall'abrianza Letta carica ai 500 sindaci e amministratori locali arrivati da tutta Italia. Ponti da oggi è diventata provincia dell'Ungheria, mentre Monza è una città europea. Non vogliamo un governo che strizzi l'occhio Orban e Putin, dice il segretario Dem. Abbiamo scelto di essere in questa città perché qui alle amministrative la destra era convinta di vincere al primo turno e invece abbiamo vinto noi. Questa è la piazza della riscossa. Niente è ancora scritto. La cronaca adesso senza sosta nelle Marche, le ricerche di Mattia, 8 anni e Brunella, 56. Gli ultimi due dispersi dell'alluvione che ha messo in ginocchio decine di comuni con 11 vittime. In un documento del 2016 la regione sosteneva la necessità di effettuare interventi sul fiume Misa, lavori che però non sono mai partiti. Ancora una giornata passata a cercare i dispersi che mancano all'appello. Una donna di 56 anni che era in macchina insieme alla figlia trovata morta e Mattia, il bambino di 8 anni, di cui si sono perse le tracce nella zona di Barbara allagata dalla furia del fiume Nebola. Tre giorni dopo la bomba d'acqua che nelle Marche ha devastato Senigallia e altri paesini intorno agli argini del fiume Misa si fa la conta dei danni. 11 le vittime già identificate e i magistrati vogliono capire se ci siano delle responsabilità penali. C'è un'inchiesta della procura di Ancona per inondazione colposa e omicidio colposo plurimo ancora a carico di ignoti. I carabinieri hanno fatto un sorvolo in elicottero sui luoghi del disastro. Le immagini viste dall'alto hanno evidenziato uno stato di piena eccezionale. Nei letti dei fiumi sono finiti alberi e grossi tronchi che hanno fatto da tappo ai ponti sotto i quali non è più passata acqua. Si sono così creati i bacini che poi sono esondati. Già in un documento della regione Marche del 2016, sei anni fa, si sosteneva la necessità di fare i lavori per mettere in sicurezza il fiume Misa, in particolare nell'abitato di Senigallia. Interventi che invece non sono mai stati eseguiti. Il Parlamento europeo condanna l'Ungheria di Orban per carenza di democrazia. Sentiamo. Nuova escalation nello scontro tra Unione europea e l'Ungheria di Viktor Orban. Bruxelles ha infatti proposto un taglio da 7 miliardi e mezzo di euro ai fondi di coesione che spettano a Budapest circa un terzo del totale. In particolare verrebbe sospeso il 65% dei fondi di tre programmi operativi perché Bruxelles ritiene che l'Ungheria non vuole o non sia in grado di contrastare reati in materia di appalti pubblici, conflitti di interesse e corruzione. Entro tre mesi sarà il Consiglio europeo a esprimersi a maggioranza qualificata. Sarebbe la prima attivazione del cosiddetto meccanismo di condizionalità che permette di bloccare i pagamenti diretti a uno Stato quando le sue violazioni hanno prodotto potrebbero produrre impatti negativi sul bilancio comunitario. È una procedura separata rispetto alle regole sul recovery ma in realtà, ha spiegato un funzionario europeo, siccome in Ungheria sono state certificate irregolarità, carenze e debolezze sistemiche in settori chiave tipo quello degli appalti pubblici, qualora le garanzie non dovessero arrivare potrebbero essere a rischio anche i fondi del recovery. Budapest ha promesso ben 17 misure correttive ma è in ritardo anche se oggi il governo ha garantito che entro novembre sarà in grado di chiudere la partita e presentare un pacchetto che contiene anche l'istituzione di una task forza anticorruzione e di un'autorità per l'integrità. Ma Bruxelles incalza Budapest, in questo modo difendiamo i valori dello Stato di diritto e proteggiamo il bilancio comune europeo. Le autorità ungheresi sono chiamate a rispondere con misure correttive concrete, ha commentato il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. A flusso record di folla per l'omaggio finale alle spoglie della regina Elisabetta esposte a Westminster Hall a Londra. A capi di Stato e di governo i rappresentanti di paesi di ogni continente parteciperanno domani ai solenni funerali di Stato della sovrana morta a 96 anni. Stasera sono stati accolti dal re Carlo III e dalla regina consorte Camilla Palasso per un ricevimento formale preesequie. Tra i presenti il presidente Mattarella e Biden non è stata invitata la Russia che giudica profondamente immorale e blasfema l'esclusione. La 7 seguirà i funerali della regina a partire dalle 11 di domani mattina. E siamo allo sport, Napoli-Atalanta in teste da sole. Dopo sette giornate di campionato stasera arrivano due vittorie pesanti contro il Milan e la Roma. Milan-Napoli consegna il campionato alla pausa prima della mega fermata mondiale di novembre. Il primo stop stagionale del Milan si concretizza nel secondo tempo. Vantaggio azzurro su rigore propiziato da Varaschelia e trasformato da Politano. Momentaneo pareggio dei campioni d'Italia su azione conclusa da Giroud alla terza rete di fila. Gol partita di Simeone, subentrato per Raspadori a metà ripresa per il definitivo strappo dei Partenopei, graziati in chiusura dalla traversa su tiro di Caluno. Il Napoli raggiunge in vetta l'Atalanta che a Roma ottiene il massimo con il minimo. Contro i giallorossi, senza ribala fin dal riscaldamento per un problema muscolare, Gasperini conquista con il baby Scalvini la quarta vittoria in trasferta. All'unico tiro in porta degli ospiti la Roma non riesce a replicare a rispetto di occasioni a ripetizioni non concretizzate. Murigno espulso per proteste dopo un rigore non concesso a Zaniolo salterà il big match di San Siro del primo ottobre contro la sua ex squadra. Quell'Inter che ad Udine incappa nella terza sconfitta in sette giornate, peggior start da un decennio. L'udinese seconda in graduatoria con la quinta vittoria di fila punisce i nerazzurri ribaltando l'iniziale svantaggio di Barella. In trasferta l'Inter non vince dalla prima giornata ed il campo di Udine è il meno adatto a sovvertire la statistica. I friulani hanno il primo attacco del torneo e la rimonta degli uomini di sottile lo testimonia ampiamente. Più del tonfo dell'Inter ora settima fa per rumore il boato della caduta della Juve ferma dieci punti. Con la prima vittoria in Serie A il Monza infligge ad Allegri la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Champions. Il peggior inizio di campionato da sette anni è preconizzato dall'espulsione di un insensato Di Maria ed è controfirmato da Gitker, mossa vincente del neotecnico brianzolo Palladino. Più degli episodi e soprattutto la mancanza di reazione della squadra far scricchiolare la panchina di Allegri. Nelle due restanti partite di giornata goleada della Lazio a Cremona, la doppietta di Immobile, buon presagio per il ritorno in nazionale e le reti di Milinkovic, Savic e Di Pedro cancellano la figuraccia danese di Europa League e spingono i bianco celesti al quarto posto. Mentre la Fiorentina ritrova la vittoria che mancava dalla prima di campionato. Di Icone in apertura e di Gonzales al novantesimo le reti che inguaiano il Verona. Ora quart'ultimo. Sempre più avvincente il moto mondiale dopo la prova di oggi in Spagna in cui due piloti italiani hanno duellato fino all'ultimo metro per la vittoria nella MotoGP assicurando alla Ducati. Il titolo iridato costruttori con cinque gare di anticipo. Dopo un primo giro shock con cadute per fortuna senza conseguenze serie ma che hanno tolto subito di scena il leader del mondiale Quartararo. Le Ducati di Bagnaia e Bastianini si sono prese la scena. Bagnaia reduce da quattro vittorie di fila. Alla fine ha dovuto arrendersi alla grinta di Enea Bastianini che lo ha superato all'ultima tornata. Sul terzo gradino del podio la Aprilia di Espargaro. Bagnaia con il secondo posto ha comunque proseguito la sua rincorsa al capo classifica. Cinque gare dalla fine. Il distacco tra il francese della Yamaha e il ducatista piemontese è di soli dieci punti. Era l'ultima notizia. L'informazione torna come sempre domani alle sette con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.